Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati con il consueto appuntamento del riassunto della settimana con tutte e quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia. La scorsa settimana ho pubblicato un piccolo video dove dicevo la mia sull'annosa faccenda di forche e derivate. Prontamente è arrivata la risposta di Enrico a gran maglietta bianca che ha fatto un video di risposta dicendo la sua sull'argomento. Andatevelo a vedere. Vi ricordate di Shopwell, il famoso programma per la gestione delle immagini che è presente come applicazione predefinita anche su Ubuntu? Ebbene il software, Yorba, che sviluppa questo software ha deciso di smettere di svilupparlo. Fortunatamente, come spesso accade nel mondo GNU Linux, è subentrato un altro sviluppatore. In questo caso è Daniel Foret, leader del team Elementari OS, che ha deciso di prendere e di forcare il progetto in Elementari Photos. Come di conseguire, anche in questa settimana non sono mancate tutte quante le notizie riguardanti il mondo mangiaro. Una distro che ha una comunità che fa parlare sempre di sé durante le settimane, perché c'è sempre qualche nuova ISO che viene rilasciata. Questa settimana sono state rilasciate praticamente tutte quante le ISO della versione 0.8.9 RC1, quindi Race Candidate 1. E' eccezione fatta per la Netbook Edition, la nuova versione ottimizzata per i netbook con processori Atom, che è aggiunta alla RC2. Se siete dunque alla ricerca di una distro per il vostro netbook, fateci un pensierino. Se da un lato abbiamo una distro che sforna spin a iOS, dall'altra abbiamo Fedora, che sta discutendo della possibilità o meno di continuare a rilasciare le spin, che molto probabilmente verranno sostituita dalle Fedora Remix, quindi brutte notizie per tutti quanti quelli che volevano un sistema già pre-inconfigurato con altri desktop non GNOME. Sempre in casa di Fedora si sta discutendo della possibilità o meno di aggiornare la versione corrente di GNOME presente su Fedora 20 alla release 3.12 non appena verrà rilasciata, se non ricordo male a marzo. Questo perché per evitare il solito disalineamento che c'è tra i rilasci di GNOME e quelli di Fedora, che se tutto va bene dovrebbe essere rilasciata non prima di agosto, quindi ci sarà un bel vuoto. Infine, ultima notizia legata al mondo Fedora, c'è quella riguardante Fedora Utils. Fedora Utils è quel famoso tool che tutti quanti gli utenti di Fedora conoscono, che vi consente, una volta aggiunto, di effettuare tutte quelle operazioni del post installazione, come l'aggiunta di repository RPM Fusion, installazione di programmi di terze parti, installazione di codec e quant'altro, con un'interfaccia semplice, cioè praticamente c'è il classico clicca qui e installa. Quindi in pochi passaggi vi completate l'installazione di Fedora. Tanto è vero che ho utilizzato Fedora Utils anche nella mia guida su Fedora 20, nella guida post installazione. Ebbene, l'autore di Fedora Utils ha dovuto per forza di cose cambiare il nome di questo suo tool e adesso l'ha chiamato Fedi, in realtà all'inizio aveva messo il nome Fez, però comunque anche Fez dava problemi. Perché ha dovuto fare questo? Perché è stato invitato gentilmente a cambiare il nome, diciamo così, perché per i soliti motivi legati all'uso del nome Fedora, dell'uso del logo Fedora, della parola Fedora, insomma, le solite cose alla Fedora maniera che vengono a fare i boss, diciamo così, su determinate cose. Meglio che mi sto zitto, se no poi rilanciamo la polemica che era nata sul blog negli scorsi mesi. Passiamo al mondo Debian. Debian, la comunità Debian, come ben sapete, è stata chiamata a raccolta per votare il sistema di init da utilizzare nel prossimo rilascio. Sono state le votazioni, però purtroppo si è arrivato un Nuga di fatto, una situazione di stag, e quindi la decisione è stata, diciamo così, messa da parte, rimandata, perché essendo un argomento delicato e molto importante, c'è bisogno di più tempo per discuterne. Sempre dal mondo Debian, sopraggiunge, viene rilasciata, la nuova versione di Semplice, Semplice 6, il nome in codice è Stairway to Heaven, quindi un nome bellissimo per questa release di Semplice. Semplice, la conoscerete. È una distro basata su Debian Seed, graficamente ben curata, con una serie di tool che facilitano la vita all'utente, che fa uso di OpenBox. Se siete dunque alla ricerca di una distro leggera per il vostro PC, fateci un pensiero, perché è molto bella. Poi, fra l'altro, ho avuto la fortuna di poter intervistare gli autori di questa distro, che sono tutti quanti italiani, in una delle mie precedenti interviste per l'angolo dell'intervista di Marcos Box. Andate però poi, anzi, cercatela sul blog, non ve lo metto nemmeno il link. Dal mondo di KDE arriva poi una indiscrezione sulla data di rilascio di KDE Plasma Next, la prossima miglior release di KDE Plasma, basata sulle QT5 e sulle KDE Framework 5. Se tutto andrà bene, la data papabile è quella del 17 giugno. Preparatevi dunque alla rivoluzione, che purtroppo sarà soltanto una rivoluzione sotto al cofano. Purtroppo direbbero alcuni. Parlando di rilasci dei vari software, è stato rilasciato nella giornata di... no, due giorni fa, se lo vado a dirlo, sì, vabbè. Lightworks 11.5, in versione stabile per Linux e Windows. Se siete alla ricerca di un editor video non lineare potente, fateci un... dategli uno sguardo. Gli uniche pecche, diciamo così, sono che il fatto che la versione free, quella gratuita, ha numerose limitazioni, sia per quanto riguarda il formato di esportazione, perché puoi esportare soltanto nei formati web, sia per quanto riguarda anche altre cosucce, tipo la posizione per salvare i file e cose del genere. Comunque, se siete utenti avanzati che fanno uso di editor video di questo livello, dategli uno sguardo. Dategli uno sguardo, insomma. In settimana poi è stata rilasciata LibreOffice 4.2, la nuova e meglio reese della popular suite da ufficio open source. Tante le novità di questo rilascio, che si concentra soprattutto per quanto riguarda i miglioramenti delle performance. C'è stata una riscrittura del codice di alcuni componenti, come per esempio il D-Calc, che adesso è molto più veloce, soprattutto sulle APU AMD. Miglioramenti nell'importazione dei file Microsoft Office, nella gestione dei filtri. Un bel rilascio, diciamo così. Come ogni meglio reese 4.2.0, non è indicata comunque per l'ambiente di produzione. Aspettate quindi la .4, come ci ricorda la tradizione. L'unica pecca, diciamo così, è che restano alcuni bug per quanto riguarda il salvataggio dei file in formato DOCX. Ho provato il classico file che mi dava problemi in passato, un file classico DOCX creato con Office 2013. L'importazione, l'apertura, funziona. Devo dire che sono rimasto stupito perché ho visto che fortunatamente il documento non veniva più sminchiato con le tabelle buttate a destra, manca, immagini spostate e cose del genere. Però purtroppo, e c'è purtroppo, il revescio della medaglia, si è andata a fare poi il salvataggio dello stesso file, sempre nello stesso formato. Quando l'ho orientata a riaprire ve lo ritrovate tutto quando è sbagliato. È un bug che comunque è stato segnalato da molti utenti, non solo per quello del mio file disgraziato, ma anche per altri file da altri utenti. Quindi, speriamo che si sistemino quanto prima questa cosa. Restando in tema di suite gratuite, c'è stata una notizia che ha fatto molto scalpore. Il governo inglese sta meditando di abbandonare o meno Microsoft Office in favore di soluzioni open source. Questo perché? Perché si sono resi conto che dal 2010 ad oggi, soltanto per le licenze di Microsoft Office, hanno speso 200 milioni di sterline, che al cambio attuale sono 243 milioni di euro. Capite bene che in tempo di austerity, cifre del genere, uno non lo può più sprecare, diciamo così, sprecare in questo modo. E' che un passaggio verso il software open source riuscirebbe a far evitare una tassazione ulteriore, riuscirebbe a far risparmiare tanti soldi per le casse del governo britannico. Oltretutto ci sarebbe anche che con la possibilità di creare un nuovo indotto, perché adesso il monopolio è gestito da Microsoft, poi con le soluzioni open source, poi ci sarebbero tanti piccoli servizi di assistenza locali che potrebbero subentrare. Quindi un effetto a cascata su tutta l'economia e anche su interoperabilità, perché tutti quanti i file verranno rilasciati nei formati aperti, quindi ce ne guadagna anche il cittadino che non è costretto ad avere la suite da ufficio di Microsoft per poter capire. Dal mondo open street map poi arriva anche il consueto riassunto della settimana, in questo caso l'ho riassunto lungo perché è quasi un mese, se non vado errato perché sono due puntate, che Stefano ha pubblicato, andatevelo a vedere. L'ultima notizia, l'ultima notizia che voglio concludere sono quelle riguardanti il mondo Google. In settimana c'è stata la clamorosa annuncio da parte di Google della vendita di Motorola Mobility, la versione visto quella che si occupa appunto di telefonia, a Lenovo, il grande produttore cinese che sta acquistando a destra la manca. Lenovo mira a espandere ulteriormente la sua posizione nel mondo della telefonia a livello globale con questa acquisizione. La cifra è 2,91 miliardi di dollari, che se pensate a quanto gli è costata a Google, perché Google l'ha pagata nel 2011 12,5 miliardi, quindi penserete, facendo una rapida sottrazione, che a Google sono andati di senno. Beh, non è proprio così, perché Google, il motivo dell'acquisizione da parte di Google di Motorola era quella di acquisire, diciamo così, sotto costo, tutta una serie di brevetti che erano presenti in Motorola, brevetti sulla fonia e altre cose del genere. Google adesso che cosa ha fatto? Tutto, venduto soltanto la sezione mobile di Motorola, ha trattenuto per sé l'enorme patrimonio in brevetti, oltretutto ha anche trattenuto per sé la divisione Advanced Technology Project Group, che si occupa di innovazione e che nello scorso ottobre ha fatto parlare di sé per l'annuncio del progetto ARA, lo smartphone modulare di Motorola che tutti quanti noi smanettoni sogniamo. Bene, con questo è concluso, ci vediamo la prossima settimana, salvo poi qualche video infrasettimanale se capita, lunga vita e prosperità a tutti, mi raccomando, seguite, shareate questo video, condividetelo, e fateci, fateci, dateci visibilità, salve a tutti, bye bye, così spagnate.